Così mi scrive questo mio amico. Ti volevo chiedere se potresti fare un video per i profani in cui spieghi cosa è e come funziona la Kabbalah, la sua storia e qualche esempio semplice di sua applicazione. Grazie. La Kabbalah è una scienza se affrontata con il criterio di alcune regole. In sostanza significa questo, cercare di trasformare le espressioni ottenute attraverso l'alfabeto in numeri. Qual è la ragione? Esiste una corrispondenza o no? La corrispondenza c'è. Infatti, noi, come soggetti pensanti, pensiamo usando la matematica. Abbiamo la precisione matematica che consente al nostro cervello di poi trasferire le quantità in un modo tale che assumano la valenza dei concetti. In che modo possiamo verificare se questo è vero? In quei soggetti che sono chiamati savant o raymen, soggetti che rivelano un certo disadattamento perché non sono capaci di compiere azioni semplici che altri uomini compiono, come per esempio, non so, gestirsi la vita, regarsi le scarpe, fare cose semplici, proprio che ti servano per vivere. Avete visto il film Rayman? Perché questi soggetti sono così capaci di fare calcoli matematici che una persona normale, ossia che è capace di usare la sua vita per gestirla, perché si sa legare le scarpe, sa fare le altre cose, perché costoro, che sembrano mancare degli elementari strumenti per regolarsi, poi sono così capaci in matematica. Allora, la spiegazione è assai semplice, tutti noi, quando parliamo, stiamo facendo calcoli complicatissimi che trasformiamo nell'uso cui essi servono, servono per conseguire concetti, alla base del concetto c'è il numero. Uno può avere semplicemente l'idea di un qualcosa come, per esempio, il concetto di amore. Se entriamo nella testa di un trogolo dita, che ancora non si esprime a parole, ma che ama e quindi sta servendosi di questo concetto, sta usando la matematica e il suo valore, proprio legato all'amor, è il numero 41. Perché? Perché ci sono tutte le unità, messe tutte in perfetta sequenza una dopo l'altra. La prima unità è il numero 1. Poi c'è il ciclo dell'unità, che è dato da 10 come spazio e 1 come la sua presenza, quindi vale 11. E la undicesima lettera dell'alfabeto italiano è la M, per cui alla A, che è la prima, aggiungendosi la M, che è la seconda, pone am come 1 più 11. Poi viene la O, che è 13, e considera, visto che l'unità fondamentale è 1 e trina, e con il termine 10 più 1 abbiamo osservato l'unità, aggiungendo 1 a 10, ora dobbiamo aggiungere il 3 dell'essere trino dell'unità, e quindi dobbiamo aggiungere a 11 il 13. E poiché la tredicesima lettera dell'alfabeto italiano è la O, dobbiamo aggiungere la O e am diventa amo. Infine, dopo che abbiamo aggiunto soltanto quel trino che è dato solo da quanto nel sistema di assi cartesiani parte dall'origine e si dirige in un verso solo, perché l'intorno intero del sistema di assi cartesiani che sono incrociati tra di loro non ha solo i tre versi che partono da un lato, c'è anche quelli che partono nel lato uguale e contrario, e quindi sono 6 le componenti totali, e quindi dobbiamo aggiungere infine 6 componenti alle 10 del ciclo, e arriviamo al 16, che nella lingua italiana è la consonante R, e abbiamo quindi l'espressione amor che ci dà l'italiano. L'italiano è la lingua perfetta che esprime i contenuti ideali nel modo dell'alfabeto italiano. Come mai? E perché? Sapete bene che già nella fede si afferma che Dio costruisce in sette giorni, però uno di questi sette giorni è il giorno di Dio, perché il lavoro è di 6 giorni. E se voi vi chiedete qualsia la ragione di questa sintesi, è perché l'unità si esprime attraverso il ciclo della decina, e se l'unità e trinità di Dio agisce solo nelle tre linee dello spazio, allora il ciclo totale che è dato da 10 elevato a 10, diviso per 10 elevato a 3, determina 10 elevato a 7. Ora, questa che è la divisione tra le potenze su base 10, quando noi tutti siamo fondati sul 10 come su un padre nostro che sta nei cieli e che non vediamo, noi vediamo solo attraverso il valore indicato dall'indice di questa potenza. E i prodotti tra potenze, quando sono espressi dagli indici, sono somme negli indici. Di conseguenza, quando noi abbiamo negli indici delle somme, abbiamo prodotti tra potenze. Quando invece sono sottrazioni, abbiamo divisioni tra potenze. Quindi, capito che il ciclo è indicato dall'indice 10, ecco che quando in quel ciclo è presente la trinità fondamentale, essa occupa tre posizioni nelle 10 e avanza solo di 7. Ma, essendo un dio trino, su ciascuna avanza di 7, ma poi lo avanza così su tre linee. E quindi 7 più 7 più 7 sono 21 tutte le unità. E l'alfabeto italiano, che è costituito da 21 unità, è perfetto per rappresentare tutti questi sette movimenti possibili sulle tre linee fondamentali di un Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. O di una presenza spaziale, che abbia un volume unico, che si è dato dalla composizione, ossia dal prodotto, di tre lati uguali e distinti. Valori componenti di un sistema di assi cartesiani che su una linea hanno l'altra componente espressa solo in un punto. Perché? L'altra componente è perpendicolare. E tutta quanta, andando perpendicolarmente sulla linea, è un punto. Perché la perpendicolarità? Perché tutto il nostro mondo è dinamicamente complesso. Ossia deve essere vai e vieni. Devono essere due i versi. E devono coincidere sulla stessa linea. Ora, non so se avete mai giocato a biliardo. Se avete una palla e deve andare a impattare contro una sponda e invertire il suo verso di movimento dopo che ha urtato quella sponda, una palla che non abbia effetti particolari, quindi avanzi solo in maniera rettilinea, per poter ripercorrere nel senso inverso quella stessa linea deve incontrare un impatto perpendicolare. Perché solo se è perpendicolare la palla ritorna sulla sua linea. Quindi, per avere le condizioni uguali di una linea che sia messa in relazione a questa e che la divida esattamente in due parti, in due angoli uguali, solo la perpendicolare ha 90 gradi da una parte e 90 gradi dall'altra. Quindi, solo la particolare, la perpendicolare, è virtualmente un solo punto sulla linea. E per esprimere lo spazio, se cercassimo di esprimerlo con una sola linea, avremmo che in ogni punto non è espressa la linea perpendicolare in questo verso, del su e giù, e in quest'altro, del profondo e del... Così. Insomma, davanti, dietro, destra, sinistra, sopra, sotto, sono le sei componenti di un sistema legato a un volume intero. E quindi noi possiamo partire dalla complessità di un volume intero e ridurlo a tre sole componenti uguali e distinte. e sono, quando Dio è uno solo, come le tre componenti uguali e distinte di tre lati uguali, che nella fede cattolica possiamo chiamare padre, figlio e spirito santo e sono la composizione unitaria di Dio. Ecco, allora, vediamo che questo Dio, che è uno e trino, può essere in due modi. può essere solo uno, può essere solo trino, o può essere uno e trino. Allora, se noi consideriamo che sia solo trino, allora, dieci meno tre, sette, è tutto il suo contributo creativo. tutto, perché è dato da sei più uno e quel sei sono sei giorni di lavoro più uno che è il giorno di Dio, il sabato. Se invece facciamo sei meno quattro, ossia le quattro dimensioni del Dio uno e trino, allora dieci meno quattro, che ha in sé anche il contributo dell'unità di Dio, determina nel sei solo il lavoro. Ecco, tutto è costruito per numeri e questa costruzione ideale per numeri si traduce poi nella possibilità di rappresentarla in maniera ideale, in maniera di giudizio. Voi dite, come si fa a giudicare una quantità? Ve lo dimostro. Pensate a alcuni numeri, 1, 5, 25. Qual è la loro essenza? Non capite? Cosa sono 1, 2 e 5? E voi mi dite, sono numeri. Ecco, il numero è l'essenza del numero. Dire essenza significa dire un numero? No, è l'essenza di un numero. Quindi è quello che spiega un numero che cosa è. È l'essenza. Ecco, l'essenza è quello che è. E quindi è è il giudizio di che cosa è una cosa. E quando noi vogliamo definire il numero, quando usiamo una lettera come la N, esprimiamo con una lettera l'essenza del numero. è come se usassimo l'iniziale della parola numero per indicare con N puntato il numero. Oppure come quando si insegnava ai bambini una volta a scrivere e a leggere A come anatra e c'era la maestra che faceva vedere un'anatra il disegno di un'anatra e la parola anatra era nella A il suo principio A puntato uguale anatra ebbene in questo sistema alle lettere è affidato il valore essenziale di esprimere ciò che è A è il principio l'inizio di un discorso A B C D è il principio puro il numero uno quindi quando c'è qualcosa che è in natura una unità il nostro cervello la associa e la pronuncia A quando c'è un ciclo intero a livello tridimensionale il nostro cervello fa 10 più 3 13 e con 13 mostra il ciclo assoluto della trinità con la lettera O ed è proprio un circolo quando c'è un testa coda c'è una conversione AU ve lo dicono nella scuola guida fai una conversione a U la U comincia da una parte e poi si converte nell'altra ebbene U è la lettera 19 e perché è la conversione a U la lettera 19 perché quando tutto il valore unitario paragonabile a Dio Padre è 10 e si muove interamente se è 10 per spostarsi interamente deve occupare altre 10 posizioni e quindi il movimento lo spostamento del 10 ne implica 20 ma quando dentro questo 20 che è il tutto tutto il movimento del 10 è 20 quando chi lo fa tutto il movimento è una unità quella unità è dentro le 20 e si muove per 19 in tal modo 19 è tutto il movimento e qual è tutto il movimento lungo una linea è il vai e vieni è la conversione a U e con la U è indicato proprio quel modello complesso che Gesù cercò di spiegare al Nicodemo quando gli disse bisogna scendere dall'alto perché sono due le dinamiche una dello spirito e l'altra dell'acqua quindi è un tastacoda è una conversione a U ed è la conversione a U che è sotto gli occhi di tutti che la vedono ma non la vedono come conversione la vedono nel senso della dinamica uguale e contraria a quella che è in atto però la U indica tutta la conversione a U che cosa è rimasta? la E la E è in sostanza il verbo essere e quando una cosa è quando esiste ma su che base? sulla base del 10 l'esistenza è un'esistenza dinamica ma come fa sulla base del 10 a esistere si deve spezzare in un valore negativo e positivo ossia deve partire da meno 5 e andare a più 5 quando comincia da meno 5 e va a più 5 il positivo che si vede è solo quello che c'è da 0 a 5 e voi dite che è 5 però è più 5 sulla base uguale e contraria del meno 5 ecco quando io dico E e dicendovi E vi indico una esistenza unilaterale quella è nella unilateralità di una sola dinamica che però è vista sulla base della dinamica uguale e contraria così come su questo mondo noi stiamo vedendo quell'assoluto che sta lì dove c'è la mia faccia in quello che è opposto a quell'angolo che contiene la mia faccia e che è un triangolo ben definito perché lì dove si appoggiano sul tavolo i miei due gomiti c'è una distanza fissa mentre invece quella linea trasversale qui vedete sopra non c'è è infinito di qua e infinito di là da una parte c'è l'infinito dall'altra parte c'è il definito interamente come un triangolo equilatero ecco come si scinde l'essere da una parte si presenta come infinito e onnipotente dall'altra parte si presenta come definito e impotente grazie ai due opposti tra la determinazione del triangolo che è chiuso e l'indeterminazione si gioca all'unità di Dio perché questa unità è creata dalla relazione che esiste tra i due opposti e i due opposti sono quelli che rendono uno il totale e Dio è onnipotente perché non è vincolato né dalla dimensione infinita né dalla dimensione definita perché è tutte e due è onnipotente nell'ideale sommo ed è determinato in quell'ideale che si è incarnato e imprigionato in ogni nostro personaggio reale però questo personaggio reale ha il valore divino come un vero e proprio strumento su cui regolarsi e il valore divino è proprio quello che fa giustizia al Dio uno e tre in che modo fa giustizia perché se al valore tre noi imponiamo proprio perché sia uno che si divida per tre perché solo tre diviso tre è uno e noi gli imponiamo questo vincolo praticamente toglieremo di mezzo i tre terzi e faremo esistere solo uno ma non è possibile delimitare Dio a uno solo perché è uno e trino allora se tu hai preso il trino e l'hai riportato a uno lo devi riportare a trino ossia devi aggiungere all'ipotesi lineare perché tre diviso tre ti fa una linea un afflusso di una parte sulla base dell'altra uno perché tre sono le tre linee x y z quando si mettono tre contro tre sono le tre positive che si condizionano alle tre negative e viene fuori un tutt'uno che è il sistema ortogonale è uno ma lo abbiamo violentato perché è ratrino allora se noi vogliamo ridargli giustizia mentre in un primo tempo creiamo un alto o un basso è un basso vero abbiamo abbassato il tre a uno lo dobbiamo alzare per tre e di conseguenza invece di fare solo tre diviso tre aggiungiamo tre per tre ossia il suo valore inverso in tal modo abbiamo un'onda che ha in se stesso due opposti tra loro come tre diviso tre e tre per tre quando sommiamo all'ingiustizia patita dal dio trino che è costretto a dividersi per tre per essere uno allora aggiungendogli anche il valore inverso che gli ridà giustizia quell'uno assume il valore di tre terzi più tre per tre ossia il valore dieci e quindi dieci diventa la giustizia del signore dio che è trino e quando noi sommiamo dieci a tre e abbiamo tredici abbiamo un circolo perfetto perfettamente rappresentato anche nella forma da un qualcosa che non ha né inizio né fine perché è una infinita circolazione se ci mettiamo a circolare siamo sempre lì ma questo dieci ha una circolarità che se si sdoppia in due e questo zero si incrocia così diventa un otto l'otto è la stessa forma però in cui tutto si inverte è un otto che è strizzato così e strizzato diventa un flusso che passa sempre per lo stesso vertice che è la congiungente dei due o e abbiamo la visione binaria nell'otto e perché binaria perché si è condizionata al duo cioè dieci che è tutto il ciclo meno due diventa otto e otto che cos'è è tutto il sette che è avanzato di uno e quando tutta la creazione sette esiste come uno assume l'infinito valore del numero otto e otto abbiamo anche visto è proprio la stessa forma dello zero che si è strizzato e si è annodato intorno a quel punto in mezzo e quindi vediamo che l'otto è proprio la visione che comprende due rotazioni uguali e contrarie infatti se consideriamo per esempio la parte alta dell'otto e giriamo in senso orario noi abbiamo fatto un andamento orario nella parte di sotto è anti-orario e quindi movimento orario e movimento anti-orario sono riportati tutti e due sullo stesso fronte e abbiamo la visione complessa perché la visione reale è quella solo di una delle due circolarità perché quell'altra è la circolazione anti-oraria per cui in sostanza noi abbiamo preso le due facce quella davanti e quella dietro e le abbiamo presentate dalla stessa parte questa operazione che nei numeri è possibile in realtà non è possibile perché noi non possiamo prendere una contrapposizione e portarla sulla stessa parte questo è il motivo per cui anche in fisica avremo fino a sette unità della fisica l'ottava non c'è come mai perché le prime sette sono proprio condizionate da quante unità si vedono simultaneamente la massa te ne fa vedere una sola e quindi è solo l'andamento di una massa che percorra un verso solo quando ce ne hai due significa che vavi qua e vavi là e quindi è l'interezza di un tempo che ne associa due uguali e contrarie e quindi due è l'indicazione del tempo se tu le metti combinate sulla stessa area è la sezione trasversale che non si muove è bloccata nel tempo non è flusso è bloccata nel tempo perché i due versi uguali e contrari che si scontrano quando non si annullano si compongono in un piano trasversale quando ne abbiamo tre compare lo spazio perché il tre è l'immagine della volumetria ottenuta componendo simultaneamente tre componenti quando ne abbiamo quattro è il flusso dello spazio perché tre sono le dimensioni dello spazio e una del flusso lineare dello spazio è l'entità una e trina di Dio in parole povere quando ne abbiamo cinque allora ne abbiamo cinque contro cinque e sono tutto il sistema rappresentativo perché il piano ha due facce una è rivolta verso me che guardo un'altra anche se sembra la stessa è la faccia di dietro che la vede un osservatore che sta dall'altra parte con questa faccia in mezzo io vedo testa lui vede croce quello che per me è materia per lui è invisibile è antimateria quella che per lui è materia è antimateria non la vedo è il retro invisibile della materia ma materia e antimateria sono solo questioni di percezione possibile o no della stessa cosa ora se noi ci limitiamo soltanto all'immagine che noi abbiamo del piano noi che siamo qui davanti al piano il piano ha quattro assi componenti e uno che ce lo porta nel tempo verso di noi e noi lo acchiappiamo proprio come una mano quattro dita quattro dimensioni contro una e per comprendere noi abbiamo bisogno di cinque dita in cui una faccia da tempo si opponga alle altre che sono lo spazio-tempo e con questo movimento abbinato e contrario l'uno all'altro noi riusciamo a acchiappare a prendere a comprendere e così come acchiappiamo comprendiamo anche idealmente con il numero cinque e il numero cinque diventa è è qualcosa che abbiamo anche capito il cinque il sei è tutto lo spazio tre e tre insomma i numeri diventano concepiti nella loro essenza grazie alle lettere le lettere essenzializzano che cosa significano sei che è la componente che va da tutte le parti è la lettera F e FI è proprio quel vento che Gesù descrisse a Nicodemo come lo spirito santo è come il vento non sai dove viene e dove va F F come il soffio la FI perché occupa simultaneamente tutte le sei componenti per cui se un qualcosa dal centro va da tutte le parti tu non sai più da dove viene e dove va è lo spirito santo FI bene ma andiamo all'essenza perché FI ho saltato dei passaggi la A è l'inizio la B la B che cos'è? è mezzo otto la B perché è otto è otto zack con una bella linea trasversale e diventa la B è la metà del totale perché se prendete le due metà che sono messe una sotto l'altra e prendete la seconda la girate e la attaccate alla prima vi viene un bel cerchio questo bel cerchio è messo con due metà tutte e due dalla stessa parte a fare un intero che si poggia su due metà e di conseguenza la B è l'espressione binaria del valore ideale binario e anche la forma vedete vi mostra queste due metà circonferenze la C è un cerchio che è senza l'altra metà e se voi ve l'immaginate proprio non curvo ma come le lettere sono rappresentate sul computer vedete che sono uno due e tre linee tre linee formano la C ed è il valore ideale per rappresentare il tre il quattro che è così in numero come io vedo nel computer ve lo dimostra in un'altra maniera il quattro praticamente è la presenza tre più uno che indica la realtà e il quattro quando andate a calcolarlo sulla base cabalistica della parola quattro la Q la U la A la T la T la R e le O viene certo e avete la prova che è tutto perché quando tutto in una linea è il ciclo dieci tutta l'area appoggiata su due dimensioni è 10 per 10 100 ma l'area evidenziata da due linee poi è un quadrato il quadrato è il 4 vedete che hanno la stessa origine del qua e quando diventa 100 è proprio il valore esatto dato al numero 4 per come noi lo interpretiamo idealmente assegnandogli il termine letterario 4 mentre invece il termine 1 quando noi andiamo a calcolarlo in lingua non è 1 è 44 4 4 perché l'unità è 8 e 44 in un certo senso che ti esprime il 4 è un 8 dissociato in 2 4 e ti rappresenta l'unità perché la quantità totale ha 3 dimensioni di spazio e una di tempo quindi è 4 ma il ciclo totale è 10 in unità è 11 4 per 11 è 44 quindi quando noi intendiamo 1 la A intendiamo il numero 44 e 44 si trasforma in 1 perché è realmente la visione di 1 quando è espresso per componenti e ce ne sono 3 più 1 come dimensioni di spazio tempo e 10 più 1 come dimensione totale del ciclo 10 più 1 il 2 è proprio condizionato alla visione del 3 perché dell'1 e del 3 perché lì in mezzo è il valore medio tra 1 e 3 e il 2 è legato al 3 come 10 più 10 più 10 perché l'unità è il 10 quando è espressa come 3 è 30 ma essendo 2 il 30 è condizionato a un piano unitario che ha lato 1 tanto che 1 più 1 è 2 e quindi per avere il valore del 2 quando il totale è 30 bisogna fare 30 meno 2 e la parola 2 è 28 e vedete è un valore perfetto perché la D è il 4 la U è il 19 la E è il 5 il 3 il 3 a cosa corrisponde? il 3 corrisponde al 4 perché il 3 è riferito al 3 è 1 e 3 è 1 è 4 e di conseguenza per capire il 3 bisogna derivarlo da 40 però poiché il 3 manca di 1 è il 40 meno 1 ed è 39 il valore di 3 perché se prendiamo la T che è 18 la R che è 16 e la E che è 5 viene fuori 39 ed è un sistema talmente perfetto che il totale di 1 più 2 più 3 che è il totale di 44 più 28 più 39 è 111 111 è la forma numerica assunta dal Dio 1 e 3 perché ci sono 3 1 ma ci sono anche 3 ordini di grandezze decimali poiché Dio è il valore 10 allora abbiamo la grandezza unitaria e poi abbiamo la grandezza del ciclo 10 e la grandezza dell'area 10 per 10 100 quindi 100 10 e 1 è la rappresentazione trina del volume che è composta da un'area 100 da un lato 10 e quindi è 1000 se facciamo il prodotto in unità e il valore totale sarebbe 101 ma uno di questi valori è il valore unitario assunto dal 100 che è il prodotto tra 100 e 10 e diventa 1000 e diventa 10 al cubo ecco vedete tutto questo sistema numerico di calcoli sono quelli che fa la nostra mente quando usa le lettere perché io per esprimere i numeri li posso vedere e calcolare se li scrivo allora io ho a che fare con dei numeri che si presentano come numero ma se io li devo ragionare con la mia mente io non ho la cifra 1 io ho la parola 1 e ho la parola 2 e ho la parola 3 cosa valgono? devono valere il valore esatto e la cabala esatta è quella che ti dà il valore esatto delle espressioni letterarie con le quali tu esprimi i numeri ecco il valore della cabala è così perfetto che se tu metti in ordine esatta la sequenza delle unità 1 11 13 e 16 nella modalità dell'alfabeto italiano che è quello perfetto hai amor se lo sovverti e non consideri l'ordine esatto ma il disordine esatto dato dal modo opposto di valutare la prima cosa che vale è il 16 poi vale il 13 poi l'11 e poi l'1 insomma l'1 che è il più importante viene per ultimo e allora hai la parola Roma e Roma la città di Roma ha idealizzato nel disegno di Dio proprio quella città il cui potere si permette di uccidere l'amor di uccidere Gesù ma poi viene presa dall'amor e diventa conquistata dall'amor al punto che il vicario di Cristo è e diventa il difensore di Roma in tutto il medioevo Roma è sopravvissuta soltanto perché lì c'era il Papa da quella città importantissima che era a un certo punto si è ridotta a circa 20-30 mila abitanti se non avesse contenuto lì Pietro Roma non sarebbe più esistita quindi se nella cultura si dice che la Grecia prese il feroce conquistatore possiamo dire senza ombra di dubbi per come sono andate le cose che la Roma uccisa da Gesù Cristo è stata conquistata dalla sua vittima che alla fine proprio perché vittima ha sconvolto ogni ordine di valori fino al punto da rovesciare la parola Roma in amor e lì a Roma è esistito il trionfo dell'amor espresso dal vicario di Cristo qualunque cosa ne possano dire tutti coloro che conservando religiosamente il loro criterio non considerano cosa disse Gesù a Pietro e tu sei Pietro e sulla pietra tua io consacrerò la mia chiesa e nessuno potrà prevalere ma a chi si riferiva questa pietra per Gesù il termine usato fu cefa ma cefa non dice la verità della parola la verità della parola passa attraverso il latino già nel latino Pietra era Petra nell'italiano diventa Pietro e Pietro chi è? è chi vi parla perché chi vi parla che si rifà ai valori principali e fondamentali del nome ma nel modo ebraico in cui non esistevano le vocali allora tra i miei cinque nomi e il cognome se facciamo sparire proprio quei nomi o cognome che cominciano per vocale rimangono in piedi Romano Paolo Torquato L P T ma sapete bene che nell'ottica di Cristo ma anche nella Bibbia la Bibbia parla in Genesi 38 di un Er che ha un figlio che esce come una mano e indica già Romano come la Romano mano di Romano e che fattasi segnalare come la mano di chi era primo poi fa uscire l'antenato di Gesù Cristo e lui esce per secondo c'è un ribaltamento tra padre e figlio e però fanno parte di un unico DNA perché sapete bene che i gemelli hanno lo stesso DNA che si dissocia in due figure diverse ma se hanno lo stesso DNA allora talis pater talis filius e il padre diventa messo per ultimo perché la R finisce per nascere per seconda il figlio di R quella mano nasce dopo e quindi noi dobbiamo prendere la R di R P T e metterla per ultimo e diventa P T R P T R diventa se ci aggiungiamo il fatto che si tratta di un ente binario in romano e che quindi è R però se consideriamo che la presenza del figlio Iesus nel padre e quindi dopo il padre P ci mettiamo il figlio Iesus nel nome romano che Gesù aveva non Joshua ma nel nome romano Iesus IE espresso in termini binari anche lui diventa Pietro il nome del padre in cui Gesù si ripresenta e quindi quando Gesù dà a Pietro il nome Pietro è perché sarebbe stato il nome che Gesù avrebbe avuto quando si sarebbe presentato alla fine del tempo nel personaggio di suo padre ed è per questo che Gesù chiama Cefa Pietro Cefa rimandava a Pietro che è il Paolo Torquato Romano che ha in sé Iesus e che è valutato a livello delle prime fondamentali lettere di Paolo Torquato Romano che è Pt.ro la prima come l'ultima la prima P è il Ro finale se facciamo una lettura in greco della P quando noi abbiamo che Chi Ro indica il nome di Cristo perché stiamo dando valore di lettere alle considerazioni di numeri allora cosa abbiamo che il padre è il 10 ma è il 10 Romano vedete ed è X il padre ma quel padre è nel modo greco di dire il padre Ro Chi Ro e Chi Ro è Cristo quando si presenterà nel Salernitano dove vogliono sapere chi sia questo la domanda è chi è Chisto quando Chisto è Romano è Cristo Chisto se è Erwe quella Erwe proprio prevista come il primogenito di Giuda cui bisognava dare erede tutto è espresso in linguaggio ma in sostanza è numero e la Bibbia è costruita tutta così sono parole ma alla base di queste parole ci sono tutti i numeri e quando gli ebrei cercano nella cabala di costruire e ricostruire questa verità per numeri e rivolgendosi al nome che Dio disse di avere a Mosè quando si chiamò Yahweh e gli ebrei usando la loro cabala arrivano al valore 26 dato al tesragramma vedete 4 lettere di Yahweh 26 tradotto nel termine che noi usiamo per esprimere Yahweh e lo chiamiamo Dio è lo stesso 26 perché D è il 4 D Yahweh sono le 4 cifre del tetragramma Yahweh D I è Gesù e O è il ciclo 13 ma se mettiamo insieme il 4 e il 9 abbiamo 13 e di conseguenza D è 13 O è 13 e abbiamo 13 più 13 26 come il contenuto numerico della parola Dio che è lo stesso contenuto numerico del tetragramma di Yahweh ecco quindi che la rivelazione biblica non è altro che il racconto che assume parole di un contenuto numerico che è il contenuto fondamentale nella Bibbia per quale motivo credete voi che leggendo la Bibbia ogni versetto ha il suo numero credete che sia una bizzarria di chi l'ha scritta per mettere in ordine di numero tutti i versetti no perché ogni versetto indica il contenuto di quel versetto il contenuto cabalistico prendiamo la Bibbia e leggiamola proprio per vedere l'inizio se sia vero e andiamo a prendere il primo libro della Bibbia il primo capitolo della Bibbia e il primo versetto della Bibbia in modo da avere 111 ossia 1 più 2 più 3 quel 3 che poi è alla base di costruire in 7 giorni prendiamola andiamo a vedere se è vero che il versetto 1 1 1 ossia di Genesi libro 1 1 come capitolo e 1 come versetto andiamo a vedere se la prima parola proprio quella iniziale indica la base di tutto dobbiamo andare a cercare la prima lettera della prima parola e qual è? in italiano perché l'italiano è la lingua perfetta abbiamo che la Bibbia comincia con la i di in è una parola sola però è composta dal duo che è alla base del nostro mondo binario costruito su padre e spirito santo quindi abbiamo due espressioni letterarie per un unico contenuto divino ed è espresso dal termine in i cosa vale? cos'è? è nove e che cos'è il nove? quando dio è uno e dieci nove è tutto il movimento che esista tra l'uno e il dieci perché dieci meno uno fa nove di conseguenza nove è il movimento e visto che stiamo andando a cercare il movimento di dio non c'è cosa più fondamentale di quella che cominciare con la i di jesus in però aggiunge al nove la n che è il dodici aggiunge a jesus i suoi dodici apostoli e quindi abbiamo in in jesus e i dodici apostoli e diventa 21 ossia diventa tutta la lingua italiana che ha 21 cifre e che sono 7 più 7 più 7 proprio tutto il movimento creativo nel suo stesso inizio dato dalla parola in e poi abbiamo uno spazio dopo le prime due c'è il terzo che è il dio invisibile è lo spirito santo che c'è ma non si vede perché è lì condizionato da una presenza nuda e cruda che è zero e stacca in dal resto quindi se noi consideriamo in più spazio abbiamo la trinità di dio che ti mostra un piano però la componente di profondità non te la mostra perché del volume intero fatto a tre dimensioni ti mostra solo la faccia davanti e ti nasconde la profondità che è uno spazio vuoto la seconda la seconda parola intera è principio o Gesù Jesus N sono i dodici e poi viene P viene il padre viene PR il padre romano nel nome di romano romano Jesus Pri Jesus con i dodici Prin che vale trino C Jesus I il padre nel suo io principio e essendo un concetto unico che numero secondo voi dovremmo assegnare al principio quando è espresso nella dinamica che vede uno in atto dobbiamo dobbiamo sapere il tutto quant'è e il tutto cos'è dieci però in un piano che si fonda sul dieci il piano è dieci per dieci è cento ma quando questo cento è visto da uno questo uno si muove di novantanove questo principio di cammino sarà totale in novantanove spostamenti quindi principio è novantanove e in effetti quando andate a calcolare cosa vale la parola principio è novantanove ora avendo ottenuto che avevamo che in era ventuno principio è novantanove il valore di in principio che cosa fa ribalta tutto perché dodici e ventuno più novantanove fa cento venti e cento venti vi mostra il dodici che è proprio il contrario di quella in che era che cosa ventuno il principio vi mostra il ribaltamento che diventa cento venti in principio cento venti cos'è sto cento venti cento venti è esattamente tutto il tempo che la creazione intera di Dio sette calcolata in centomila perché centomila è il lato che moltiplicando centomila per centomila mostra l'unità come dieci elevato a dieci non dieci per dieci dieci elevato a dieci quindi in potenza di dieci non in prodotto di dieci ma in potenza ossia divina perché la combinazione dieci per dieci combina la realtà ma quando la potenzia allora è una potenza divina superiore alla realtà cento e diventa centomila per centomila e diventa dieci miliardi ora se tutto il verso lineare è centomila e sono sette i giorni creativi in totale sono settecentomila se la creazione del mediatore è la mediazione del sette è tre virgola cinque ma se il figlio è decimo del dieci allora quel tre virgola cinque è zero virgola trenta cinque moltiplicandolo per zero virgola trenta cinque abbiamo zero dodici venticinque e abbiamo il natale di gesù nell'anno zero nel mese dodici nel giorno venticinque la nascita del mediatore di chi costruisce in sette giorni ora visto che il tempo unitario è sempre centomila centomila più cioè per centomila per zero virgola trentacinque è trentacinque mila combinare le due cose tra di loro ossia la creazione e la creazione del natale visto che sono indici numerici significa sommarli aggiungere un dettaglio a quell'altro e se noi dettagliamo la creazione del natale allora il settecentomila diventa settecentomila più trentacinquemila settecento trentacinquemila ecco questo settecento trentacinquemila comprende il principio in principio al centoventi quel in principio lavora esattamente quanto settecentom trentacinquemila meno centoventi il risultato è esattamente settecento trentaquattromila ottocento ottanta giorni e sono i giorni esatti dal veicicinque dicembre dell'anno zero in cui nasce Gesù fino al termine del calendario maia ossia fino al 21 12 2012 ma vedete come in principio si mette in relazione a in principio in 21 in principio è 120 di conseguenza la totalità del vai e vieni mette insieme il 21 di in e lo considera come ventunesimo secolo dalla nascita di Cristo dall'anno di nascita di Cristo ventunesimo secolo e fine del ventunesimo giorno i due estremi i valori intermedi sono rovesciati e sono 12 e 12 come i cicli 10 di 120 che visto che Dio è 10 il 120 ti esprime le 12 quantità di 10 e a questo punto hai che il ventunesimo secolo il anno 12 il mese 12 e il giorno 21 indica il termine esatto della fine del tempo ecco la fine del tempo è descritta da queste due parole iniziali della Bibbia in principio se noi le calcoliamo per il significato proprio che hanno come cabala ma qual è la terza parola Dio è trino vero ecco la terza parola è Dio in principio Dio vi sembra un caso ci aggiungiamo un 26 120 più 26 è 146 e che cos'è 146 come il valore in principio Dio 146 se calcoliamo che 123 111 la trinità di Dio 111 qui abbiamo 146 46 meno 11 fa 46 36 35 vedete 35 chi è 35 è la mediazione della creazione di Dio 70 35 è proprio la durata intera della vita di Gesù Cristo 33 anni se aggiungiamo al figlio le due dimensioni trasversali di Padre e Spirito Santo 33 più 1 più 1 è 35 e in principio Dio sta comprendendo tutta la creazione di Gesù Cristo e bastano queste tre parole in principio Dio e compare il 35 come quanto esuberi la unità e la trinità di Dio nel 111 la quarta parola è creo creò cosa vale creò la C è Cristo ed è 3 la R è romano è 16 3 più 16 fa 19 più 5 della E fa 24 4 più 13 della O 24 34 37 il valore creò è 37 37 e cos'è 37? 7 più 3 10 il creò è proprio Dio creatore che crea con il 10 creò creò 37 visto che sono unità quando ci aggiungiamo al 37 l'unità abbiamo creò l'unità e creò l'unità diventa 37 più 1 38 ed è l'anno di creazione di Dio 1 creò 1 38 ma il linguaggio aggiungendo 38 al valore che avevamo avuto fino adesso che era 146 146 più 30 fa 176 più 8 fa 184 e cos'è 184? è 18 la Z la croce e il 4 la croce dell'unità e trinità di Dio ossia di quel calvario lì in cui è crocefisso Dio 1 e trino e quindi quando ci aggiungiamo la parola creò abbiamo nel risultato che è 184 fino a quel punto che cosa? anche il 20 meno 16 84 è 100 meno 16 e 16 che cosa è? la R quando al duo binario gli leviamo la R rimane 184 ed è proprio la creazione subordinata alla R di Romano ma il testo precisa che cosa creò il cielo e la terra il è 9 più 10 19 creò il e la l'u il mondo complesso creò e aggiungendo 19 al valore che avevamo trovato fino adesso in 184 184 194 203 e 203 che cos'è? è il piano del Dio 1 e trino perché 100 è una faccia 100 è l'altra faccia 3 è la trinità di Dio 203 è fino a questo punto creò il indica che Dio ha creato il piano davanti e dietro della trinità ma il testo lo precisa cielo e la terra vediamo cielo che cosa significa cielo 3 nella C più 9 nella I fa 12 più la E fa 17 più la L fa 27 più la O 27 37 40 cielo è 40 possibile? certo è l'unità e la trinità di Dio il cielo il cielo è 10 più 10 più 10 più 10 è 40 e il cielo è Dio nel valore 1 è trino quando questo Dio che vale 40 lo aggiungiamo al 203 e diventa 243 che cos'è? il 43 è qualcosa che sta dentro l'unità 1 è 44 quindi il 43 è il movimento di 1 interno all'uno totale e quindi quando arriviamo a dire in principio Dio creò il cielo siamo a 143 e 143 più 5 148 cosa è 48? 48 è il nome Gesù e 248 poi bisogna aggiungerci la 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 è 11 48 più 11 fa 59 259 fino adesso siamo arrivati a 259 e indica che il 60 è vissuto da 1 che essendo nel 60 è 1 solo di 60 1 solo perché 2 sarebbero 66 sarebbero mano terra è l'ultima parola delle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 parole sono 9 la prima lettera in principio sono 9 le parole e il contenuto è completo per aggiungere l'ultimo significato della parola terra che è la conclusione cerchiamo di capire che cosa sia il terra ra ra ve lo dico io sono io romano amodeo terra è il numero 3 romano quindi terra è il numero 3 romano in romano amodeo e indica la terra e quando nella bibbia troverete che dio diede il nome il suo nome alla terra è perché terra è il ra terra 3 romano e quanto vale terra in termine di cabala la t è 18 la e è 5 quindi 18 è 5 fa 23 r r è 32 quindi 32 più 18 32 42 50 la 51 terra e 51 se vogliamo essere terrestri ossia realisti il 51 è il nome con il quale io entro nel mondo io entro nel mondo quando san paolo si converte il 25 gennaio e da saulo diventa paolo 51 e il valore terra che è il nome di dio l'ultima creazione di dio in principio dio creò il cielo e la terra la terra è il corrispettivo del cielo l'altra parte del cielo è la terra e l'altra parte del cielo nella terra è un ra che è un tre romano che vale 51 paolo e saulo che sceglie di chiamarsi paolo in italiano è sempre l'italiano la lingua perfetta perché il latino è paulus ma diventerà in italiano paolo ed è paolo il mio quarto nome quello reale perché la realtà terrestre è a quattro dimensioni e paolo è 51 come terra vedete questo primo versetto della Bibbia che ha nove parole quante lettere vuote ha se sono nove parole sono anche nove lettere vuote le parole più le lettere vuote sono nove nove diciotto e andiamo alla fi della croce che è già messa in figurazione come il lavoro divino nel primo versetto ma la ti è la forma del tre perché c'è un'asta un'altra asta e una terza asta la ti rappresenta il tre in che cosa nel tre più tre quindi tre più tre sei per tre è la forma trina assumibile da tre quando tre più tre sono l'asta che sta sopra e si moltiplica per tre perché si sostiene tutta in verticale tre più tre per tre è diciotto ed è la forma della t che è la forma poi che viene data alla lettera t che è un doppio capestro voi in questa forma qua avete proprio dove si impiccano la croce è un impiccare da una parte e dall'altra e ti inchiodano lì quindi la lettura del numero uno ma le cose sono così perfette che valgono anche se contiamo le singole lettere delle singole parole vi faccio l'esempio allora quanto sono in sono due principio uno due tre quattro cinque sei sette otto nove è il principio cosa volete che sia una parola che ne ha nove quindi nove e due undici quindi in principio undici l'unità è la trinità di Dio nel ciclo dieci più uno in principio Dio più tre undici e tre fa quattordici quindi quando siamo a tre parole c'è il piano quattordici di Dio creò allora quattordici quindici sedici sette diciotto diciannove venti ventuno ventidue ventidire ventidicinque ventidisei ventidette ventidotto ventidove trenta trentuno trentadue trentatré ecco sono trentatré lettere c'è la vita intera di Cristo ma voi dite ma è un caso questo è il traduttore che poteva tradurre le parole in modo diverso perché non sono scritte in italiano questo testo qui non è scritto in italiano è la traduzione in italiano di un testo che era in ebraico e qui c'è di mezzo il traduttore è il traduttore che ha usato parole che potevano essere diverse e vediamo se è possibile in credo che in sia unica principio pure Dio pure creò pure volete usare un altro verbo creò Dio è creatore cos'è? edificò c'è un termine più preciso di creò il è l'articolo determinativo il è solo quello cielo possiamo chiamarlo in un modo diverso in italiano no c'è quella parola sola e la congiunzione è solo quella l'articolo determinativo femminile è solo quello terra è solo questo chiamiamo terra in un altro modo noi il nostro mondo no vedete la versione è obbligata a queste parole è obbligata a 33 esatte lettere che sono la vita intera di Gesù Cristo e se ci aggiungiamo al 33 il valore delle pause che erano 9 33 più 9 cosa fa? 33 più 9 fa 42 bellissimo 42 è il nome segreto di Dio proprio nella cabala ebraica che assegna il nome segreto di Dio a 42 lettere è il nome mio? io diciamo romano Antonio Anna Paolo Torquato Amodeo ho forse 42 cifre ma qui stiamo calcolando anche gli spazi vero in questi 42 e quindi bisogna aggiungere alle 36 lettere del mio nome 6 per 6 ideale per l'opera di Dio è un piano 36 i 6 sabati e aggiungendo e aggiungendo a 36 i 6 sabati sono 42 il mio nome ha le 42 cifre e quindi cosa succede? che il lavoro è 33 ed è la vita di Cristo il valore dell'opera totale che è 42 è il nome segreto di Dio che è proprio il nome romano Antonio Anna Paolo Torquato Amodeo che sono 42 cifre e sono ideali perché sono ideali? perché le 5 cifre del nome che io ne ho 5 sono ideali per il Dio 1 e Trino perché il Dio Trino che si presenta col 3 è 333 ma se ci aggiungiamo l'unità è 334 di conseguenza mentre per Gesù Cristo è 33 nel mio caso bisogna aggiungerci un altro valore che è l'unità e trinità di Dio e diventa 333 più 4 334 ed è in perfetta linea con questo eh ora andiamo a immaginare questo nome per la cabala che appunto lo esprime perché il romano in cabala è 66 è la sommatoria del 11 del ciclo 10 più 1 di Dio romano nella lingua che troviamo qua in Genesi quando andiamo a cercare in Genesi in Genesi 46 che indica proprio il numero dei cromosomi che esistono in un uomo quando andiamo a guardare nel numero 46 il valore di Dio nel versetto 26 che cosa troviamo scritto nel capitolo 46 in cui 6 più 4 fa 10 è Dio 46 il versetto 26 che è il versetto di Dio tutte le persone appartenenti a Giacobbe uscite dai suoi fianchi che entrarono in Egitto senza contare le mogli dei figli di Giacobbe sono 66 vedete descritto nel capitolo in cui Giacobbe Israele scende in Egitto quindi nel 46 in cui esprime nel 4 tutto il Dio 1 più 3 e nel 6 tutto il movimento 3 più 3 quindi nel valore totale descritto in Genesi per come assume poi il valore letterario ma nei numeri il 46 ecco che cosa esprime a livello di capitolo ma quando andiamo a trovare a livello di Dio il versetto 26 ecco descritto Dio tutte le persone appartenenti a Giacobbe uscite dai suoi fianchi ossia dal suo sede che entreranno in Egitto senza contare le mogli dei figli di Giacobbe sono 66 ebbene romano è uguale a 66 la componente in fisica dell'energia unitaria di Planck è 66 66 è l'undici che va in tutte e sei le parti e un'undici che va nei sei nomi che ho io cinque nomi e un cognome ebbene quando al 334 che è il 33 che abbiamo visto nel primo versetto di Gesù Cristo che si aggiunge il quattro dell'unità trinità di Dio e diventa 334 nei miei cinque nomi ci andiamo a aggiungere il sesto del cognome Amodeo che vale 47 morto che parla io sono veramente un morto che parla perché il mio personaggio non c'è è quello di un morto che è sostituito interamente da Dio come è descritto in Genesi 38 in Genesi 38 c'è una nascita divina attribuita al Er sposato con Tamar e Tamar è la croce T di Am a R Amodeo Amodeo Romano Tamar la madre la croce di Tamar è Er il marito morto il marito morto è sostituito da padre Giuda per avere i due giamelli e quindi Er è un morto che è qui che vi parla e sono io 47 morto che parla ebbene aggiungiamo 47 morto che parla a 334 e viene 381 si ribadisce Genesi 38 ma questa volta mettendo prima il 38 e poi l'1 ma se pensate che in Genesi 38 c'è il gennaio 38 in cui sono nato io e che nel valore cabalistico sono 381 sia 381 il valore cabalistico del mio essere 381 è proprio quello che è descritto nel libro 1 38 e cosa ne dite in che versetto è descritto il mio avvento ossia di quella mia mano che nasce prima in Genesi 38 e andiamo a vederci semplicemente Genesi 38 per cercare di capire in quale versetto è descritta l'avvento della mia mano 38 allora è il 28 nel 38 è il 28 e perché è il 28 che ragione ha ad essere il 28 il 28 è la pienezza del 7 quando la creazione è unitaria nel 7 ma è anche trina nel 21 e infatti non comincia con il 21 la Bibbia e quindi comincia con il 21 e poi vi dirà che è in 7 giorni che si aggiungono al 21 e diventano 28 e nel 28 cosa è scritto durante il parto uno di loro mise fuori una mano e l'alevatrice prese un filo scalato e lo legò attorno a quella mano dicendo è questo che è uscito per primo è l'affermazione di un figlio di Er che è un morto vivente e che vi mostra una mano un 5 e sono i 5 nomi che ho io vedete se tra le 42 cifre del nome segreto di Dio e le 381 non ci fosse una relazione stretta noi potremmo dire che tutto questo è legato al caso ma non è per niente così perché le 42 cifre con cui comincia il versetto 1 del libro 1 sono il terzo in cifre se è un terzo in cifre e la presenza terza in cifre quant'è l'insieme? è 3 volte 42 3 per 42 fa 126 126 in cifre totali 126 cifre perché sono 42 cifre che moltiplicato per 3 fanno 126 cifre ora il valore assoluto che prescinde dalle cifre integra la cifra nel valore totale che diventa 127 e qui abbiamo proprio la differenza tra dio che è 1 e diventa 26 più 1 27 il 126 che è 42 per 3 e sono 126 cifre quando ci aggiungiamo al 126 anche quel 100 e diventa 27 il 127 è il valore assoluto però se partiamo dal valore assoluto 127 è un valore assoluto come no è 10 per 10 nel fronte è 3 per 3 per 3 nel flusso ed è dimezzato perché il totale sono 6 per 6 per 6 ma qui è 3 per 3 per 3 27 ebbene 27 se cominciamo dal 27 assoluto 127 assoluto 100 più 27 e lo vogliamo calcolare relativamente alle cifre la prima cosa che dobbiamo fare è dobbiamo estrapolare una unità dal 127 dicendo che sono 126 volte una cifra tirata fuori come termine di confronto dopo se noi dividiamo per 3 saremmo ingiusti se non moltiplicassimo anche per 3 perché avremmo semplicemente 42 cifre che non sapremmo cosa valgono in assoluto e cosa valgono in assoluto è l'operazione inversa 127 per 3 fa 381 quindi avete la prova matematica che nel caso mio il valore del mio nome che ha 42 cifre come le 42 cifre del versetto numero 1 che sono 33 in Cristo e sono 42 in Dio numero delle cifre si riferiscono a un valore totale che è 381 esatto del valore cabalistico del mio nome allora io vi dico che la cabala nel primo versetto del primo libro e del primo capitolo ha descritto interamente non solo la nascita di Cristo ma la nascita di suo padre quando Cristo sarebbe venuto nel terra nel ratrino sarebbe stato Paolo 51 e avrebbe avuto interamente il nome segreto di Dio non solo Paolo avrebbe avuto anche Romano Antonio Anna Paolo Storquato perché avrebbe avuto Anna uguale 26 come Dio la parola Dio e la parola Anna hanno lo stesso valore e quindi quando qui c'è presente Dio creò e Anna creò e quindi c'è il nome Anna qui dentro ma se noi dobbiamo tirare fuori tutto da Dio tutto da Anna come valore essenziale il valore essenziale di Dio e di Yahweh è 26 dobbiamo leggere il significato cabalistico di 26 e chiederci cosa sono quando noi vediamo 2 6 cosa sono 2 6 non sono forse 66 2 6 Dio 26 se lo esamini sotto il profilo di che cosa sono quel 2 6 sono 66 sono romano sono quello che nel libro 46 nel versetto 26 sono i 66 che entrano in terra d'Egitto usciti da Israele dalle cosce di Giacobbe bene allora abbiamo ottenuto che i 2 6 di Anna o di Dio sono romano e il secondo nome il secondo si aggiunge al primo però si aggiunge aggiungendo un valore totale che è il 12 perché 12 sono i 12 che si aggiungono a romano perché se romano è la sommatoria di 11 ed è il primo nome il secondo deve essere la sommatoria del 12 perché è perché deve essere il Dio Trino e se Dio è 26 il Dio Trino cosa vale cosa vale 3 volte 26 vale 78 e quindi vedete il secondo nome di romano Antonio è Trino rispetto a Dio 26 quindi abbiamo visto che Paolo è scritto nella parola terra Anna è scritto nel soggetto Dio che crea ma la sua essenza è romano la sua trinità è Antonio e che cosa rimane abbiamo visto romano Antonio Anna Paolo rimane l'ultimo nome è l'ultimo nome che cosa è l'ultimo nome è il primo perché nella legge di Gesù Cristo l'ultimo è il primo e voi dite che il primo è 66 quindi dovrebbe essere 66 eh sì 66 che cosa è 6 più 6 12 ma 12 lo devi calcolare di per sé o abbinato alla sua unità assoluta 100 112 eh sì perché se ci metti il piano di Dio 10 per 10 davanti a quel 6 e 6 12 diventa 112 ma sono 112 unità e 112 unità sono 113 e quando sono 113 che cosa hai in effetti nel quinto nome hai il piano di Dio 10 per 10 e poi hai il dimezzamento di Anna Anna che è Dio dimezzata a 13 ti rivela il flusso che è 13 sulla base di 13 e 13 che cos'è? è l'unità e trinità di Dio quindi hai che Dio 26 è binario perché la vera unità di Dio è 10 più 3 e Dio 10 e 3 13 quando si presenta binario si presenta come 26 quando si presenta su 6 dimensioni si presenta come il secondo nome che è 78 che è 6 volte 13 quando infine è l'ultimo nome è 13 nel valore assoluto 100 ed è tutto il nome di Romano perché? perché tutto il nome di Romano non è solo Romano qual è il nome intero di Romano? io sono forse Romano io sono Romano Amodeo e quando e quanto vale Romano Amodeo? Romano è 66 Amodeo morto che parla è 47 66 più 47 fa 113 come Torquato e chi è Torquato per me? per me Torquato è il padre è il padre di mio padre e chi è Anna per me? per me Anna è la madre della madre di Gesù e vedete che in me sono rappresentati il padre di mio padre nel mio nonno Torquato e la madre della madre nella nonna di Gesù Cristo e quindi mentre la vita di Gesù Cristo è direttamente contenuta nel 33 di tutte le lettere che lavorano nel primo versetto le 42 che comprendono anche il sabato in cui Dio riposa e arriviamo a 42 presentano tutto ciò alla fine in che cosa? nel nome totale che ho io e se arrivate a capirlo come lo abbiamo definito tutto quanto presente fin dal principio noi dobbiamo arrivare a capire che se nel primo versetto l'ultima parola è terra è la presenza finale della creazione di Dio in un terra in un romano amodeo come un tre romano che vale 51 quanto Paolo che vale tutto il resto e abbiamo la prova che questa traduzione di tipo letterario che ha trasformato i numeri 21 99 26 e così via che sono legati a tutto questo discorso che io poi non ho seguito fino in fondo perché quanto è il valore definitivo totale quando abbiamo tradotto tutto questo discorso vado a verificarlo un momentino al computer per vedere di non avere fatto errori vado a calcolare la cabala esatta perfetta di quanto vale in cabala tutto il primo versetto della Bibbia Grazie. Ecco, io ho fatto il calcolo, sapete a cosa vale? Cabalisticamente tutto il primo versetto vale 314, pi greco, pi greco è 314, è 100 volte pi greco. E' un pi greco che vale 100, ossia la dimensione assoluta, 100, della trinità di Dio, 3, che vale 300, affidata al piano trasversale che è 7 e 714. Quindi 314 è 300, la trinità di Dio nel valore assoluto di 3 centinaia e il piano trasversale è quello intero della creazione in 7 giorni e 7 giorni. E 314 indica il piano totale della creazione divina. E' pi greca. Perché pi greca? Perché pi? Pi, come il valore di pi greco, è una croce duplice. Sono due piedini appoggiati su una linea trasversale, sono due croci, pi greco. E allora, pi che cos'è? E' il padre. Se il padre pi, lo vediamo nel termine della pronuncia della pi in italiano, che però ha la forma della ro in greco, ecco che a pi greco corrisponde ro. E se consideriamo che il romano 10 è la chi, la xp è la chi ro, io sto usando un computer attualmente che è xp nella versione di Windows. E il sistema che io ho in gestione è MDA, che è il mio iniziale codice fiscale di Amodeo. Insomma, tutto il sistema cabalistico, quando si traduce poi in narrativa, diventa quella specie anche di raccontino che è vulgata, è spesso un raccontino che sembra fantastico. Ma la parte vera dentro quel raccontino fantastico sono i codici numerici che esistono e che spesso si trasformano in quel modo fantasioso di un racconto che sembra quasi campato in aria come una fantasia, ma che invece è l'espressione e la traduzione vera di un libro sacro scritto da Dio. Voi dite, ma no, Dio scrive? Volete che Dio che scrive tutto? Voi credete che l'uomo faccia? Ma l'uomo è un creatore secondario cui è assegnata l'esemplificazione della creazione. Dio crea dei personaggi apparentemente autonomi come qualunque creatore di un libro, trasferisce la sua creatività dei creatori secondari descritti liberi nel suo libro. E di conseguenza noi siamo descritti liberi, ma siamo obbligati a interpretare la parte nostra. Dio scrive tutto. Tutto il mondo è descritto attraverso un calcolo preciso che ha un solo risultato. Dieci diviso nove. E di conseguenza, poiché il risultato è unico, in questo mondo la creazione è affidata a un calcolo. Ma l'uomo si riscatterà dall'assegnazione che ha ricevuto ora, avendo ricevuto una parte sola fissata qui. Perché? Avendo avuto un limite, abbandonerà alla fine del limite tutto il limite e sulla base della sua croce delimitata ora, vincerà in assoluto sulla sua croce, nel lato in cui vedete la mia testa, che è un lato infinito. perché esso individua chiaramente che la mia testa sopra non ha nessuna definizione, mentre invece al di sotto qui c'è un bel triangolino in cui la parte bassa delle due aste, che sono padre e spirito santo, è il figlio. sotto c'è un figlio ben determinato, sopra ci sono tutti i figli di Dio, tutti, e di conseguenza, è grazie proprio al limite che Dio ha determinato da una parte che può essere infinito dall'altra. I due opposti che determinano l'unità la determinano nella onnipotenza di un Dio che sopra è senza limiti, sotto è delimitato. E la delimitazione della mancanza di limiti è proprio quel interagire tra opposti che crea l'unità di Dio. Quindi ringraziate Dio se la vostra vita oggi sembra piccola, povera, delimitata, una sola, volta a morire. Perché questa è l'immagine uguale e contraria di quella vera. Perché tutta la verità è stata divisa in due opposti. E se voi vedete ora la presenza di un opposto terribile è perché dall'altra parte ce n'è uno che è tutto il contrario. Comincia da quella morte che qui sembra la fine e non ha più limite perché è infinito. È ideale e non reale. È però tale da ricorrere alla realtà tutte le volte che l'ideale vuole assumere una parvenza di mondo reale. Quindi questo mostro mondo reale su cui si poggia tutto e per numeri è proprio quella realtà costruita sui numeri che poi sono idealizzati per cabala dal nostro cervello. E quello che un savant dimostra di saper fare come calcolo perché lo vede è perché non essendo un calcolo che riesce a finalizzare nel concetto a cui serve il calcolo vede il calcolo. Tutti voi calcolate allo stesso modo ma avete l'abitudine di usare il calcolo per ottenere il concetto. E quando udite in filosofia un discorso complicatissimo e divenite capaci di seguire tutto il percorso siete diventati tanto capaci da calcolare tutto quell'insieme di relazioni numeriche che esistono nelle parole nei singoli concetti con l'analisi logica latina che dà a ogni termine poi il suo scopo logico che questo calcolo incredibile lo capite. e quando avete capito un ragionamento è semplicemente perché avete fatto un calcolo perfetto e conoscete il suo risultato. Quel risultato lì è un numero che è così essenziale da corrispondere a quella idea definitiva finale che vi siete fatti dopo di aver udito una quantità enorme di parole ecco io ho cercato di capire di farvi capire con un esempio pratico la cabala dove serve veramente nell'italiano è inutile che io vi faccia la storia della cabala e tutte le altre cose che ne hanno dette io faccio il mondo nuovo e vi dico la verità sulla base della verità e la verità che vi ho detto in relazione alla cabala è che l'italiano è la lingua voluta da Dio attraverso una divina commedia scritta da uno che dava ali a Gesù Cristo di ieri Dante ali ieri e che è proprio l'intervento di un Dio che arriva in Italia si presenta come me ma per favore non date importanza a me ripeto io sono Amodeo 47 morto che parla consideratemi soltanto una voce di chi sembra esserci ma è interamente sostituito da suo padre così come Er fu sostituito dal padre Giuda nel dare al mondo due gemelli uno l'antenato di Gesù Cristo in 38 e l'altro nato nel gennaio 38 per come descritto in Genesi 38 e in Genesi 25 dove i due gemelli nati come Giacobbe e Esau che tiene con la mano il calcanio del fratello lega insieme due codici unitari un'altra volta nei due gemelli che sono il 25 della nascita nel giorno 25 che accomuna me nato il 25 del primo mese dell'anno e Gesù nato il 25 dell'ultimo mese dell'anno in questa opera di sovversione per cui il primo diventa l'ultimo il padre diventa il figlio e tutto ciò è accaduto poi mettendo insieme il padre il figlio di religioni diverse questo è accaduto perché quando si volle definire la data di nascita di Gesù si fece ricorso a una celebrazione pagana che celebrava il 25 dicembre il sole invitto nel dio ra romano e al posto del ra romano il dio del sole invitto romano fu collocato il natale del figlio proprio come descritto in Genesi 1 38 in cui nasce prima quella mano è dichiarata prima nel versetto giusto il 28 e dopo rientra nel grebo materno e nasce sovvertendo tutto nasce non il 25 del primo mese ma il 25 dell'ultimo e il primo diventa ultimo e il padre diventa il figlio e nasce prima il figlio del padre e il padre poi si presenta come pura verità non personale tanto da dire a tutti togliete vi di mente la testa di personificare Dio perché Dio siete ognuno di voi nella profondità di voi stessi nella croce assunta da Dio padre in ogni figlio che si diversifica da Dio padre solo per il fatto che Dio ha voluto diversificarsi in una infinita quantità di croci attribuite a figli che sono il padre in modo che sotto l'intervento libero di ogni figlio nel suo spirito santo e nella sua assoluta libertà di azione ogni figlio elegge sceglie il padre ideale giusto secondo lui e così Dio è la integrazione di tutti gli ideali di salvezza che ogni uomo a tu per tu ha e Dio va cercato nel profondo di ciascuno e ogni fratello è Dio nel suo limite nella sua croce amate chiunque incontrate indipendentemente dal fatto che sembri buono o cattivo perché è Dio come voi quindi toglietevi l'idea che siete schifezze non è affatto vero siete Dio nella croce del personaggio che è il contadino cui è assegnato il campo siete solo dei gestori del campo creato da Dio il proprietario è sempre lui ma voi siete rappresentanti quelli che poi concretamente lo lavorano e lo fate nei vostri personaggi che sono puri enti rappresentativi e intercambiabili ora vi è stato assegnato il vostro ma in paradiso tutti i personaggi saranno a disposizione di tutte le anime di Dio e potrete finalmente essere liberi mentre ora non lo siete perché siete costretti a essere chi Dio ha voluto che foste assegnandovi come figli di vostro padre e vostra madre voi che siete in questa schiavitù di attribuzione sarete liberi da questa attribuzione perché nel regno dei cieli dove non c'è più la definizione ma l'indefinizione tutti i personaggi saranno a vostra disposizione il sistema creato da Dio è perfetto di imperfetto c'è solo l'atteggiamento mentale di chi è in un mondo perfetto e lo giudica imperfetto perché ha l'impazienza di giudizio crede che sia sufficiente assistere anche a tempo di una vita per capire cosa sia giusto mentre invece l'equilibrio che esiste in tutto l'insieme sta solo nei secoli dei secoli e un equilibrio così complicato quando è visto nel breve periodo anche che duri secoli sembra sempre uno squilibrio ma voi impazienti giudicate nonostante che Gesù ve l'abbia detto e raccomandato non giudicate sappiate che siete figli di un padre e che se gli chiedete un pane non vi da un sempre abbiate fede di chi conosce tutti i capelli che avete e li ha contati ad uno ad uno ecco amico tu mi hai chiesto solo della cabala io come al solito faccio sempre un discorso abbastanza compressivo e che diventa lungo ma spero che tu non ce l'abbia con me io ti ho voluto anche inquadrare il sistema della cabala nell'esistenza del nostro mondo reale che poi è quella stessa esistenza quantitativa che quando è giudicata in modo essenziale dalla mente traduce le quantità nei rispettivi valori ideali essenziali e grazie al valore essenziale riesce a ragionare perché riesce a vedere che cosa hanno in comune cose diverse la capacità della ragione è proprio questa estrapola dalle cose il numero perché è il numero il valore puro che possa rappresentare le cose e quando poi assegna al numero una esistenza ideale ecco che lo stesso mondo quantitativo che si esprime nella fisica dei quanti è oggetto di una lettura che è la stessa ma solo anziché essere una organizzazione atomica dell'esistenza è una organizzazione atomica del linguaggio per cui come come il lato 1 atomico è 10 elevato a meno 10 così è la A 10 elevato a meno 9 è la B 10 elevato a meno 8 è la C quelle quantità che in termini quantitativi ti crea il mondo reale quando usi le lettere lo analizzi in modo essenziale e sei in grado di avere una lettura essenziale di cosa sia l'esistenza senza essere abbacinato dalla sua apparenza perché in questo modo tu vai alla sua origine fondamentale e quando in questa lettura l'uomo sente di avere un dio non si inganna perché ha le capacità pronte di sentire e presagire coloro che essendo troppo intelligenti troppo poggiati sulla loro dimensione non riescono più a sentire sono sordi per il valore assoluto che sta sotto la realtà vedono solo quello concreto che deriva dalle loro credenze e si oppongono alla capacità di percepire il valore assoluto in questa realtà arrivano perfino all'idiozia di credere nell'esistenza di una relatività generale senza che essa sia condizionata a una legge assoluta vedete che idiozia una legge che vale sempre che mette in relazione le cose e non è arrivato a essere capito come il Dio che regola tutte le cose mi dispiace per la margarita acci che ha la sua età e c'è arrivata la atea lei vede l'armonia in tutta la realtà vede il mondo che ha le sue regole e le crede soggettive non regole astratte che impongono le relazioni determinate no regole insite nelle stesse determinazioni come se uno che è si autoregolasse e perché perché quando Dio vuole rende ciechi e sordi proprio i sapienti e non sono più capaci di vedere il valore essenziale alla base di quella realtà che gli è relativa e credono nella possibilità di una realtà relativa senza che sia relativa a un ente assoluto è una povertà che deriva proprio dall'ego che essendo si posto come un ego sapiente porta poi a non capire più assolutamente e non avere più nemmeno la capacità di intuire la presenza di Dio e ti arriva a dire io non credo in Dio che peccato di Dio